complimenti all'Atalanta perché riesce a strappare un pareggio allo stadio olimpico di roma contro la lazio giocando con praticamente cinque non titolari veramente assurdo l'Atalanta riesce a strappare un punto un punto d'oro un punto d'oro vista la formazione gli indisponibili per covid e infortuni veramente un punto che per gasperini sta proprio stretto 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 infatti stava ridendo a fine partita congratulato con i suoi perché c'era gente nella primavera gente con la prima presenza in campionato in serie a veramente una grande Atalanta che con lo spirito riesce a strappare questo punto alla lazio che sicuramente non deve essere contenta per questo pareggio anche se lo sappiamo l'Atalanta è una squadra che a livello di giovani è una delle migliori in a reparto giovanile al settore giovanile è migliore questo è poco ma sicuro però fatto sta che la lazio ha buttato una chance perché poteva vincere un big match poteva fare tre punti che pesavano poteva accorciare sull'Atalanta che comunque in questo momento di difficoltà non si sa come andrà nelle prossime partite poteva sicuramente andare a più tre dalla roma e quindi magari anche se la roma dovesse vincere domani poteva stare tranquilla a pari punti stessa cosa dalla fiorentina e accorciare sulla juve poteva essere un intreccio di cose che però col pareggio non è stato così però fatto sta che se c'era una possibilità di una vincitrice questa è stata la lazio ma purtroppo anzi purtroppo nel senso purtroppo i primi laziali e si deve tirare in porta perché oggi la lazio ha fatto molto possesso palla in realtà anche nel secondo tempo un bel fraseggio un bel fraseggio veloce mentre nel primo tempo un po' una partita morta no? perché la lazio girava palla ma la girava lentamente l'Atalanta invece con molto pressing teneva distante l'Atalanta la lazio scusate dall'area di rigore dell'Atalanta e mamma mia che partita di Demiral sontuoso Demiral il migliore in campo di questa gara perché tra gli attaccanti di entrambe le squadre non c'era non c'è un migliore perché comunque a parte che non c'erano Zapata, Muriel, Malinoski, Gosens c'è veramente troppo indisponibili per l'Atalanta che si è andato a giocare e ha strappato un punto d'oro però Demiral oggi ha chiuso qualunque cosa, qualunque cosa, qualunque giocatore e immobile è stato annullato annullato da Demiral, poi ci ha messo il suo anche Palomino però Demiral ha fatto veramente una partita straordinaria questa è una partita da otto perché ha tenuto bene il reparto difensivo da solo chiudendo immobile, non è una cosa da tutti contro una Lazio con grande occasioni e buttata più che altro oltre a non aver tirato mai da fuori aria quindi provando ad entrare in aria col pallone, ad entrare in porta col pallone e vari cross però oggi la Lazio non ha sfruttato delle ripartenze perché l'Atalanta con le poche volte che ha attaccato ha subito delle ripartenze ma Felipe Anderson oggi è stato poco lucido Felipe Anderson ha avuto certe ripartenze in cui lì deve dimostrare la sua qualità che quest'anno secondo me sta molto molto sotto le aspettative dopo un inizio di stagione abbastanza importante poi è sceso, è calato e ora sta facendo male oggi mancavano Gosens, Zapata Malinoski, Idic, Chadebur, Pasalic, Muriel, Kupminers e Deron 9 giocatori di cui 7-6 titolari più altri 2-3 che sono i primi cambi fissi quindi oggi l'Atalanta è veramente ottima le difese concedono poco però aveva anche la difesa della Lazio che aveva un compito sicuramente più semplice di quello dell'Atalanta che aveva da difendere immobile Felipe Anderson e Zaccagni mancava Pedro, un po' di lucidà è mancata si vede però Zaccagni ha preso anche un palo, un'occasione nitida per la Lazio al 63esimo quando all'improvviso no perché la Lazio stava giocando un po' a ribasso era un periodo anzi un momento della partita un po' sotto tono per entrambi però che poi la Lazio con questo improvviso palo un po' si accende gli ultimi minuti attacca, attacca, attacca con la voglia di vince e anche Sarri che spingeva i suoi e l'Olimpico e invece Gasperini ringhiava per difendere il risultato l'hanno fatto, hanno preso un punto allo stadio olimpico a Roma contro la Lazio giocando con le riserve ottima Atalanta, chiudo qui perché l'Atalanta ha fatto un'impresa se così vogliamo un'impresa perché con giocatori così è riuscita a strappare questo punto importante è stata una partita comunque equilibrata dove entrambi potevano sicuramente vincere perché l'Atalanta, seppur giocando molto peggio della Lazio che però ha a livello di possesso palla possiamo dire il gol poteva trovarlo con una ripartenza perché ci sono stati degli accendi però comunque nessun dato di fatto per questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima ciao e forza Roma per domani eh